E sguscia No da boh puttana troi l'ho cannato di un millimetro come il mio solito C'era anche l'anti-aereo? Si ma lo vedo Incorporata nello spallo come è Ma che palla? Oh ce l'abbiamo dietro? Non lo vedo Ecco Bravo ti senti forte adesso perchè la nave ti ha dato una mano a distruggerci bravo Sentiti via adesso Che bello tipo ho sparato la caviglia di un mio alleato il proiettile l'ho trapassato e ho ucciso un nemico Sai che faccio adesso? Oh Dici sta al gioco Vado con l'anticarro contro le nare Dai Bella nava Ah eh Sto utilizzando un cannone anti-warm Oh sto girando Madonna mia quanta gente c'è qui No non è la granata a impatto porca Che è il cazzo dietro eh? Ci abbiamo forse? No l'avrei virato E che ti metti in trota? Ush Porca di quella trota Abbiamo fatto il gioco Spergare tutte le aree No mi caccivi addosso e cazzo lascialo perdere Cazzo Che per te? All'ingrado 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 Cioè sai c'è quella gente con il nome stranissima Tutti è dietro Ok C'ha buttato o distrutto? C'era un'altra Quella piccola adesso Oh grazie per le munizie Comunque sia stato così gentile a darle Oh Sacca puttana Ah ma quella è un medico Mi spara Non c'è uno del male Guarda No quando sei sotto a superazione i proietti li scompaiono ogni volta Vedi? Ah è sotto è sotto è andato Si è elevate le balle in seguo le proietti ha poca vita mi sa C'era Oh cazzo Oh anche anti-aere Ah come è andare Merda no dai per pochissimo No Che palle Porca di quella è qui Adesso basta parte la campagna di matte contro le anti-aeree fissa Posto Non c'è problema Votate per matte niente più campà No no adesso si le vado a prendere e vado a cercare tutte Inizio a farti poi bim e vendita Adesso vado la li trovo tutte Li ammazzo tutti Si C'è problema In che bandiere sono le anti-aeree? Ehm Sai che sinceramente non lo so matte Perché ci sto praticamente zero volte sulle anti-aeree Morirò Sto ammurato Ruttando che così c'è più è così E questo ecco Perché c'è un cechino che cammina col flare in mano? Tipo Non so Ehm Aiuto No sono da solo ragazzi È stato bello con oltre L'emico colpito 49 Boh basta è la mia fine Ehm Ma porca putta L'emico colpito 49 E ci aveva meno di 50 di vita Ma che cazzo è da Cos Ma cos'è? E' una merda Ehm E' una nave qua Ehm Ehm Non avevo calcolato la nave Ehm 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 Impardo Ehm 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 Guardi Guardi hanging x e per provare l'oporolo popolo se è incastrato nei vagoni idiota però non la rischia ragazzi non muovo su dirmi ottio volo il minuto avevo visto in un tuo video quello quel del medico un mostrano è strana ed è anche overpower come al solito la dice standard o l'antiere o mirino e quel medico va che tra l'è comparso e l'è morto te ne vai eh no preso nei piedi dino ma che cazzo si vuole a nascondere dietro il vagone lo strozzo gli ho staccato il dito figa secondo me dove c'è un cecchino da su su attenzione le matte sulla destra eh morisse col supporto magari bene attenzione medici ovunque cazzo c'era ingegnare dietro le rocce c'è dietro il legno siamo fottuti morirà oh colpito dai cazzo bravi ragazzi bravi robozzi io ho bagarospi bagarospi si e se cazzo vuoi scusa tuttora il mio posto dove camperarmela con questo cecchino perchè comunque il tuo ma da voi c'è un cecchino davanti a noi batte attento ho colpito gravemente ho visto bella bene mh vediamo che gente c'è là mh quante prede un prede uno dai su porti camperati che si coricano per terra ed aspettano ricarico il mio mosi innagante moro io io no non ci credo io questo è andato oh c'è tanta gente ovunque c'è impressionato di come ti passi per l'acqua snichi snichi sott'acqua la gente già sa che te sei lì e degirato verso di te eh ma sai forse di più che altro è il discorso che magari ti hanno spottato e c'è quelli che guardano la mini mappa però ehm ho visto qualcuno lì il supporto è stato arato godo il morto coglione morto ovviamente l'assalto è pressoché morto fuggi 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 dai abbettini carico c'è un ottimo posto per cecchini figa tu abiti sotto la scale no io non ho detto che abito sotto la scale giuro col cartone col cartone fuggi facciato fuggi frutta togli vestite legge albicchie di cura ti sarà dato oh grazie ma ecco ok e purtroppo il discorso è che corri fuori scappa mate scappa roma 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 ucciso il carrista un modo dove c'era la nave oh non c'è le granate cazzo e io ucciso il piloto della nave praticamente che stava headshot mentre ero in marco praticamente si abbiamo dietro medici ah questo qui secondo me è una parte dell'equipaggio ed è morto video cazzo dietro si cazzo uff madonna oh nave qua eh oh beh buono buono no mi è stuta la vita mi è stuta sì assolutamente non c'è storia fareste l'argone no basta fareste l'argone abbiamo già dato io io ero tentato che ci giocavo almeno una ogni dieci ogni dieci anni bisogna giocarci con la mappa le partite è vietato giocarsi di più sì sì che sennò sale l'odio e la pressione muori praticamente madonna madonna mia ragazzi madonna mia mozzonno vabbè morirò capita no adesso mi fa il bug che figa mi fa venire gli infarti bastardo cioè che ogni volta che ho guadagno punti mi fa vedere che salgo al cento quarantesimo livello lo fa a ogni level cap ogni davvero sì te lo fa sempre sì 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 sì